La nostra casella postale elettronica. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con IBC, Italian Broadcast Incorporation. Come già spaziamente vi abbiamo informato, è venuto a mancare, purtroppo, Italia 2M, che è qui in Mario. È sempre impegnato nel mondo radioamatoriale, in particolare con l'Ari, l'associazione Radio Massimo Italia 2. Ma è anche editore e professore della professione che Agi si utilizzava per le lecce di Exit Radio Massimo. Ma questa settimana ascolteremo invece una nuova traduzione, l'anticholo 4.5 di Exit. In nome del bollettino ufficiale dell'area, l'associazione Radio Massimo Italia, forato da Italia 1, JQJ, con sempre metti insieme a Radio Massimo e S2L. Siamo ben contenti di questa nuova collaborazione direttamente con l'associazione nazionale dei radioamatori. In questo senso oggi asforcerete anche le classiche notizie di DCL con il panorama onde forte, in un momento amazone. Con la voce di Dario Montserino dal 1981, in una scansione della banda dei 60 metri, dedicata a quel tempo ai leotiti. Quindi sarà anche interessante ascoltare le parole di Mario, quando cercherà di indicare ai leotiti come trovare le esigenze e le risposte di seguitore quando all'epoca erano stessi e i seguitori o comunque gli ascoltatori dotati di un'unità di frequenza. Come sempre in tutto sarò convinto da interessanti e all'unità di...